ecco qua risorsa boldrignana sei giorni in italia mi hanno raccontato e e già fa questo minacciato un disalbile perché con prepotenza voleva le sigarette e niente ecco come siamo ridotti danni sopra danni eppure la besta che ci prendono per il culo comunque cadorna stamattina ecco le risorse cosa fanno eccole e la polizia ha detto che non può fare niente non può fare niente no no non ti prendono guarda hai già cominciato a dare i numeri cinque volte no cinque volte ha già picchiato il dente e non gli faccia niente ha rotto la gente a uno come un'altra anche le alziane addirittura non ci sono dentro in mezzo questo qua poverino con la tarotella che non può camminare ho visto sì è andato qui e dicevi dammi le sigarette che ti ammazzo sto registrando ma non li vuoto i voti va bene ok e risorse della baldracca ciao ciao